Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Un 27enne agli arresti domiciliari a Modena con le accuse di maltrattamenti in famiglia e vaso per andare in vacanza a Gallipoli Dopo aver pubblicato delle stories su Instagram è stato raggiunto dai carabinieri e condotto in carcere Un uomo di 27 anni posto agli arresti domiciliari a Modena non è riuscito a resistere al richiamo delle vacanze e, incurante della legge e dell'obbligo di rimanere in casa, ha raggiunto la Puglia, per l'esattezza a Gallipoli, in provincia di Lecce I carabinieri sono comunque riusciti a rintracciarlo in una casa isolata, di proprietà di alcuni parenti, nei pressi del comune Salentino di Matino A tradire il detenuto è stata la sua irrefrenabile voglia di condividere sui social network la sua bravata, probabilmente nella recondita speranza che nessun operatore delle Forze dell'Ordine se ne accorgesse Su Instagram, infatti, il 27enne ha pubblicato alcune stories tra feste e locali, che hanno insospettito i militari permettendogli di individuarlo e arrestarlo Come riferiscono le testate locali, il giovane si trovava agli arresti domiciliari a Modena con le accuse di maltrattamenti in famiglia e altri reati Il giudice, vista la sua giovane età, aveva deciso di combinargli una pena sicuramente più lieve del carcere nella convinzione che non sarebbe stato così ingenuo da evadere, tanto meno di raccontarlo su social network a centinaia di persone Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video